Feria propria dell'otto gennaio Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo, sceso dalla barca, Gesù vide una grande folla. Ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i suoi discepoli, dicendo, Il luogo è deserto, ed è ormai tardi. Concedali, in modo che, andando per le campagne e i villaggi dei dintorni, possano comprarsi da mangiare. Ma egli rispose loro, voi stessi date loro da mangiare. Gli dissero, dobbiamo andare a comprare duecento denari di pane, e dare loro da mangiare? Ma egli disse loro, quanti pane avete? Andate a vedere. Si informarono e dissero, cinque e due pesci. E ordinò loro di farli sedere tutti, a gruppi, sull'erba verde. E sedettero a gruppi di cento e di cinquanta. Prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani, e li dava ai suoi discepoli, perché li distribuissero all'oro, e divise i due pesci fra tutti. Tutti mangiarono a sazietà, e dei pezzi di pane portarono via dodici ceste piene, e quanto restava di pesci. Quelli che avevano mangiato i pani erano cinquemila uomini. Commento al Vangelo del giorno di Don Luigi Maria Epicoco Sbarcando, vide molta folla, e si commosse per l'oro, perché erano come pecore senza pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Essere pecore senza pastore significa essere abbandonati a noi stessi. Quanti di noi sono abbandonati a se stessi? Quanti di noi sperimentano l'amaro di non sentirsi presi a cuore da nessuno? Gesù è innanzitutto colui che viene a togliere questo peso immenso di sentirci abbandonati, lasciati, non presi a cuore. La fede è sapere che abbiamo una relazione in cui ogni nostra vita è compatita da Cristo. Egli, cioè, sente con noi ciò che viviamo. Ma la compassione di Gesù non è un fatto meramente sentimentale, interiore o emotivo. La sua compassione è un fatto concreto che fa la differenza nelle cose concrete della vita. Ecco perché è raccontato il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Esso è la risposta al realismo mondano dei suoi discepoli. Questo luogo è solitario ed è ormai tardi. Concedali perciò, in modo che, andando per le campagne e i villaggi vicini, possano comprarsi da mangiare. Forse, anche noi, come i discepoli, siamo convinti che la fede serve solo in una certa regione spiritualizzante della nostra vita. Quando, invece, la vita esige fatti, allora bisogna lasciare la fede e andare a cercare cose concrete. Gesù mette in crisi questa convinzione, la fede è una risposta concreta a un bisogno concreto, e, paradossalmente, questa risposta passa attraverso il nostro poco e il nostro possibile. Ma egli rispose, voi stessi date l'oro da mangiare. Gli dissero, dobbiamo andar noi a comprare duecento denari di pane e dare l'oro da mangiare? Ma egli replicò loro, quanti pani avete? Andate a vedere. E accertatisi, riferirono, cinque pani e due pesci. La fede non è attendere innanzitutto l'impossibile di Dio, ma mettere a disposizione soprattutto il nostro poco e il nostro possibile. Molta gente prega affinché Dio intervenga nella propria vita, ma non comprende che il miracolo della fede inizia quando tu fai innanzitutto il tuo possibile.